Riprendono fiato le vendite al dettaglio sul finire del 2023, ma anche se la forbici si sta riducendo, si continua a spendere di più per comprare di meno. L'effetto dell'inflazione, nonostante la frenata degli ultimi mesi, non è ancora superato e le famiglie si orientano sempre alla ricerca del risparmio. Così volano gli acquisti nei discount alimentari, resta però l'allarme dei consumatori, i carrelli sono più vuoti e il caro prezzi denunciano e ancora un'emergenza, a danno dei portafogli e dei consumi. La grande distribuzione continua a dominare e tra i veri esercizi svettano i discount alimentari, quindi vendite registrano a novembre un più 6,9% in valore su base annua. In 11 mesi mettono a segno addirittura un più 8,5% rispetto al periodo gennaio-novembre del 2022. Nel mese del Black Friday va bene anche il commercio online con un più 0,6% mentre soffrono i negozi. Il paniere salvaspesa varato dal governo, rimarca il Codacons, non ha prodotto gli effetti sperati e servono misure più incisive.